Forse oggi le cose sono un po' cambiate, il pericolo maggiore si dice venga dalla Calabria e dall'Andrangheta ma allora quando noi ci chiamiamo, quando chiamai Falcone a lavorare al ministero soprattutto la cosa nostra, così il segno Falcone che bisognerà chiamarla, perché la mafia è un fenomeno storico difficilmente descrivibile in poche parole, perché è stata tante cose diversamente dal 1700, nell'800, all'inizio del 900 a metà del 900 e poi quella del narcotraffico di cui è diventata la principale organizzazione che ne trafficava, perché la Sicilia era una posizione geografica strategica tra l'Oriente da cui riceveva l'odio alla statunitia a cui lo trafficava dopo averlo raffinato, a Trapa non c'era più colossale, la famiglia di odio era tutta Europa, faceva migliaia e migliaia di fatturato faceva anche un fatturato di 5, 6, 7, 800 morti all'anno, gli spuneva di un esercito fatto di 5.000 soldati, tra i quali c'eravano soldati ma in realtà sono generali, sono boss ciascuno dei quali comanda poi su una migliaia di picciotti, di manovalanza criminali quindi non era la mafia più della coppola, delle lupare, degli acquati solitari, della lotta tra cosche, era una multinazionale del crimine strapotente che comandava perché inculpeva paura, errore, perché la mafia uccide, sembra una cosa banale ricordarlo ma non lo è affatto è il fondamento del potere di cosa nostra, uccide, sai che se fai uno sgarro a cosa nostra se non obbedisci ti ammazza, questa è la legge di ferro della mafia siciliana, era questa per cui quando Falcone sentiva dire io ho parlato da lui e se lo ripeto è perché viva anche per altri la lezione che mi ha impartito io mi chiesi da milanese appena arrivato a Palermo la prima volta che lo incontrai e quindi con tutta l'idea generica e diciamo l'ignoranza sostanziale ma è possibile che un totorino, il seduto delle foto segnaletiche con quell'area da contabinotto appena inurbato sia al capo di questa multinazionale di circa miliardi e che ordina esecuzioni capitali con questa frequenza e lui dice quello che lo chiamano contabinotto appena inurbato ha scalato i vertici dell'organizzazione mafiosa con un di più di ferocia, di efferatezza e anche di organizzazione la mafia non uccide per sbaglio, uccide con grande precisione sceglie i suoi versagli, prepara gli acquati e li esegue utilizzando una serie diversa di professionalità e il suo ferro controllo del territorio per cui si rassicura le vie di fuga innanzitutto di non essere individuati gli esecutori e tanto meno i mandati e di fatti coteva di un'enorme impurità avevano ucciso nell'odine, per parlare soltanto dell'ufficio istruzione in cui lavorava Falcone il fondatore delle prime grandi inchieste è Cesare Terranova poi avevano ucciso una volta con un'autobomba Rocco Finici e poi ucciso Falcone che di fatto era diventato un caponetto ormai sulle soglie della pensione che l'aveva indicato come suo successore era diventato di fatto il capo dell'ufficio istruzione c'era ancora un vecchio rito processuale oggi noi non sappiamo neanche qui che cosa sia un giudice istruttore purtroppo direi di vendarmi le anzi i giudici istruttori erano una garanzia di azione penale professionale non si avventuravano come si è visto in tempi recenti come tanti sostituti procuratori a tal vita processi senza nessuna speranza di portarli a un esito positivo il resto è positivo di un processo che la condanna se no vuol dire il processo è stato mal fatto in qualche modo non aveva base sufficiente non c'erano le parole, non c'erano le testimoni eccetera eccetera era un giudice istruttore sul loro di essere nominato capo dell'ufficio istruzione perché lui era già coordinatore di fatto istruisce, con il senso dell'ufficio istruzione istruisce il più grande processo alla mafia mai pensato e mai realizzato in nessuna parte del mondo e dopo due anni di imbattimento ascoltati 700-800 testimoni 200 avvocati con una cura, una meticolosità nell'evitare qualunque errore non i baracconi come il processo Tortola a Napoli in cui scambiarono il castello della mafia Tortola per Tortola per capirci no, un processo fatto con enorme scrupolo perché Falcone era un giudice garantista che rispettava anche gli imputati di mafia non faceva comunella diceva che bisogna evitare rapporti intimistici con i pentiti non diventare amici no, no, no ma neanche diventare degli spregiatori o insolentirli o insultarli la mafia non è un mostro non è un cancro cresciuto su un corpo sano diceva Falcone il corpo è tutt'altro che sano la Sicilia è malata e la contiguità tra cultura siciliana e mafia purtroppo è reale la contiguità e la parte più difficile da colpire della mafia è proprio la contiguità è l'area di sostegno che ha altro bene vince questo straordinario processo uno si immagina celebrato in tutto il mondo dall'America, al Giappone, dall'Australia al Canada alla Francia, alla Germania anche in Italia l'opinione pubblica lo sostiene ma il Consiglio Superiore della Magistratura non solo non lo nomina capo di quell'ufficio istituzionale ma gli mette sopra qualcuno che ha il mandato di distruggere quello che lui ha fatto di distruggerne i presupposti giuridici l'idea che aveva Falcone il processo, il processo ha confermato che la mafia fosse un'organizzazione unitaria ma invece adesso il suo nuovo capo quello che gli hanno messo sopra io lo dico anche io tante volte ho detto Falcone fu bocciato ma non fu bocciato la verità è che fu degradato perché lui era già il capo dell'ufficio istituzionale immaginate un generale che vince una grande battaglia una battaglia decisiva e lo Stato Maggiore anziché decorarlo il giorno dopo gli strappa i grandi gli dice non comandi più tu, comanda un altro questo è quello che è successo nella realtà e questa è anche la ragione per la quale l'ho invitato a venire a lavorare a Roma e ha assunto l'incarico più importante che era quello di direttore degli affari penali quello che gli ho chiesto è di aiutarmi aiutarci a rendere e in questo eravamo tutti impegnati il ministro, il capo di gabinetto degli altri collaboratori quelli che lui aveva scelto e quelli che già c'erano al ministero che c'ha da Liliana Ferrara la compianta di Liliana Ferrara che lui volle con il suo amice e che la donna che in pochi mesi riuscì a organizzare l'aula bunker a Palermo in genere per fare una mezza stanza a Palermo che lei in pochi mesi riuscì a montare l'aula bunker che non deve essere a prova di attacco per capirci venne a lavorare a Roma e allora abbiamo impostato la più coerente e organica strategia antimafia della storia italiana lo rivedivo non perché è un merito mio ma perché è un merito collettivo e perché è giusto che siano ricordati tutti coloro che vi hanno partecipato Falcone a Roma Borsellino in Sicilia anche se aveva qualche dubbio e qualche prevenzione che poi superò la cultura che si era diffusa nel paese era che insomma ciascuno fa la sua parte non devono esserci confusioni tra la politica e la magistratura mi sembra un'idea assolutamente bizzarra nella lotta contro la Cosa Nostra il governo la magistratura polizie i carabinieri la Guardia di Finanza devono lavorare insieme questa è una delle ossessioni di Falcone lo ripeteva tante volte lo Stato è perfettamente in condizione di distruggere Cosa Nostra se lo vuole e se è unito in tutti i suoi componenti diceva Tostar la mafia non è invincibile ma come è cominciata ci sarà un momento in cui la mafia finisce se noi non abbiamo sradicato la mafia abbiamo però distrutto l'esercito mafioso questo sì e la mafia in Sicilia non fa più 5-600 morte all'anno da allora dal 93-94 si contano solo i dita di una mano o di due mani al massimo gli omicini di mafia certo si paga ancora il pizzo ma Falcone diceva anche questo il fatto che ci sia il pizzo rivela che la mafia è debole perché quando la mafia è morta assicura anche l'ordine quando è forte se c'è disordinevole dire che la mafia è debole ma il pizzo una domanda una domanda intratta ha accennato alla fine anche a questa sorta di disinformazione perché è vero quello che ha detto era il tempo dei veleni non c'erano ancora le fake news ma c'erano tanti veleni e questi veleni arrivavano e colpivano effettivamente anche il ministero di grazia e giustizia e Falcone voi vi sentivate un po' anche un fortino assediato dentro questa situazione e questo contesto e soprattutto avvate la sensazione noi siamo stati molto gravi noi eravamo consapevoli certo, noi eravamo consapevoli